Sommiamo due cose che ti piacciono fare, le spade e il cibo, giusto? Sono due cose che adori, proprio una di che è ok E se ti dicessi che abbiamo delle spade che sono cibo e che quindi delle... È possibile! Guarda, guarda, vieni qua con me, guarda qua con me, vieni, 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 ho sbagliato il cesto come sempre Ok, come sempre? Guarda qui dentro, ho sbagliato Ma porca miseria, Steph! Non è cecchia una, scusa! Qui, 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 puoi guardare, abbiamo della liquirizia, delle mele, del pane, del pesce, delle stick Il melone, perché il melone ti piace un sacco, ovviamente Ma sei sicuro che si possono mangiare, Steph? Sono spade! Prendi una, Fede! No, non ho fame in questo momento, quindi proveremo dopo nel caso, eh Te lo mostrerò, ma ti garantisco che davvero le puoi usare sia per combattere i nemici e poi mangi Cioè la serie mangio, poi ho fame e gnam, è una figata E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, che si giochiamo a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft dove Steph mi mostrerà delle spade incredibili a quanto pare, Steph Perché io ancora non ci credo che si può mangiare una spada, ma che dici? Secondo me non hai capito niente tu No, no, io te lo garantisco invece, ti garantisco che davvero puoi mangiarle Ma non solo Fereniki, alla fine il mangiare è la caratteristica, diciamo, un po' più particolari Però abbiamo davvero tante spade, cioè in questa cesta, e le ceste sono grandi, è tutta fatta di spade Ah, ok, ok Quindi non vorrei dire, ma abbiamo non poche armi da provare Allora io partirei da questa che secondo me può essere divertente Ok, passa Facciamo tutte quelle degli elementi, dai, facciamo acqua, fuoco, terra, vento, demone Mi vado a prendere l'armatura perché ho visto esatto quando prima è sbagliato che qui c'era un'armatura proprio per me Esatto, 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 bravissima Io invece prendo dei mostri che vanno bene da affrontare per ora e voglio provare un'arma prima che tu inizi Oh mio Dio, è proprio quello che pensavo Sì Ma è geniale Cioè, si siede sopra il raggio e prende il volo Perché lo vedi che si siede? E prende danni da caduta fino a che non muore Oh mamma mia Bellissima Scusa se l'ho provata io ma ero troppo curioso Ma dai, scusa, questo era da far provare a me, Steph Tieni questo È una mazza da baseball Ah, ok Ok, interessante Non so se ha degli effetti particolari però tieni un bel pigment da picchiare, ok? Non mi sembra niente di troppo eccessivo Vero, vero, vero No, abbastanza normale È soltanto per dire di picchiare la gente con la mazzola bandol Esatto, esatto Però fa figo, è quello senza bandol Che prebello, eh Questo sì, non è da sottovalutare, Steph Allora, qua iniziamo con le cose che hanno degli effetti, Fere Sei pronta? Ok, spada di ghiaccio Esatto, vado? Sì Ok, vai Fere Aspetta, aspetta, aspetta Questo sono quasi sicuro che congela Prova un tasto destro Ok Ah Creo del ghiaccio Provi a congelare il mob, vediamo Ok, provo Non puoi? Non fa, non fa Ok, quindi puoi creare dei blocchi di ghiaccio e allo stesso tempo fightare con essa Ok Molto interessante Ma quindi, se io Ma che stai facendo, Steph? Che stai facendo? Che hai compirato? Io ho letto Air Sword E quindi ho fatto Ma quindi con cosa faccio il vento? E invece fai fulmini Ah, ok Tipo, spish Mettila, che stai distruggendo tutto Ok E con questa, quindi, invece, creo la terra Ok, questa era a fare con i fulmini Perché non avrebbe avuto senso Aspetta che vado a spegnere il fuoco Eh, ma stai bruciando Eh, lo so, ma qui brucia tutta l'arena pure Vai Fere Ok La Earth Sto morendo Spegniti Ok, dimmi A me sembra che faccia qualche rumore Ma, aspetta No Guarda, provala A me non sembra Questa mi sa che non fa nulla Non so Questa mi sa che non fa nulla Nel mentre ti provo a mettere anche un mob Pronta? No, non sembra Vai, attaccalo Magari fa qualcosa di particolare attaccando Ma che delusione Ma sei sicuro di aver capito come funziona? Sì Sì, 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 sì Ho tasto destro e ho tasto sinistro con queste armi Ok Picchio Anche questa non fa nulla Ok Magari sono belle solo esteticamente Questa lo fa Questa lo fa Questa fa le fiammate Ok E allora vedi che anche con le terre qualcosa deve fare per forza Funzionano tutte Avrà qualche effetto che non capiamo Ma non lo so Non lo so, Steph Andrebbe provata fuori Vedi che assomiglia molto a un alberello Magari permette di piantare gli alberi Allora andiamo fuori Guarda, Steph Vai Ora sì che si capisce tutto Guarda Ma è completamente inutile Funziona come la bone meal Sì, è parecchio inutile per combattere Però comunque ha la sua utilità Vabbè, vabbè, vabbè Torniamo dentro l'arena Grazie per avermi fatto vedere Sai cosa faccio? No, smettila Fuoco contro terra Vince il fuoco Lo sanno tutti Basta Basta Ciao zombie Ciao E poi prende fuoco tutto qua Sarebbe stato figo però Ah Lo fa Lo fa No, aspetta Magari perché giorno, Steph No, perché non stava bruciando Aspetta, vediamo questo spider Vai Spider, vieni qui Devo capire se fa davvero quello che penso Sì Eh, allora sì Io stavo per dire Se è be' figo se bruciasse per i nemici Tac E lo fa Fantastico Ok, farema da qui si può rientrare nell'arena Sì, guarda Ti lanci di sotto e ci siamo Perfetto Perché qui siamo soltanto all'inizio Cosa vorresti vedere? Dimmi un po' Stuzzica un po' la tua mente Quelle che si mangiano Quelle che si mangiano Hai fame? Ok Molta Dimmi un gusto Questa Lascia il golio Non lo so, è troppo difficile Accidenti Vieni Ok Questo è un biscotto Allora Quindi adesso voglio provare Mettimi prima un mob Perché devo vedere anche se è una spada efficace Ok Ok Brava Debole Ferretti salvo Hai capito che è successo? È finita, giusto? Sì Allora è molto scarsa Cioè devo dire Questa è una spada Alquanto inutile Quindi è proprio Più cibo che spada È più cibo che spada Vabbè Se ti devi difendere un attimo Quella col biscotto è andata Fai tasto destro e mangia Ok Mangiato Mangiato Almeno sfama bene Sì due polletti Ok aspetta che ne assaggio Io assaggio quella al melone Vediamo Gnam 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 Ok 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 La quella Quella che mi intriga di più Quella 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 È la golden apple sword Che teoricamente mi darà Ma dai Ma ti ha dato l'effetto Della golden apple No Oppure no Era Cioè Te l'aspetti no Certo Da quel nome ti aspetti Ti darà i cuoricini extra Invece no Invece no Vabbè comunque sono delle spade Che si mangiano Quindi sono fantastiche A priori Ok Quindi ogni volta che ho fame Entro qua e ne prendo una Giusto Sì ma se mangi anche cibo normale Va bene Non succede nulla Mangio le spade Non devi per forza mangiare quella Allora inizio a prendere Un altro pochettino Dato che ne abbiamo un sacco E direi che secondo me Devi provare la Demon sword Demon sword Che Teoricamente Per il demone di fere È corretta Me le lascio Nell'inventario Vediamo un pochettino Prova a tasto destro Ok Vediamo se ha un effetto per terra Hai messo fuoco A parte sì che sto mettendo fuoco Ok ma lo fa anche l'altra Picchia Destro Aspetta ho letto una cosa Ok No niente niente Era un effetto Ma era l'effetto della golden Faccialmente non so Steph No Trano capisci Allora facciamo anche l'altra Vabbè vabbè Questa è molto bella A livello estetico invece Vabbè Qual è Guarda Questa è bella Sì Mi piace il colore Si chiama Dams Dams Ok abbiamo capito Steph Va bene Va bene Va bene Dams Zenner Sì Bellissima Obsidiana Secondo me queste non sono particolari A parte questa Che è di carta Ah Quindi credo non faccia neanche molto danno Aspetta prova Ma io non credo Che possa essere forte Una spada di carta Infatti Infatti è debolissima Ci sta Vabbè ci sta Debole ma non troppo Non erano proprio pochi Allora partiamo Con cose Questa fa troppi danni La usiamo dopo Perché fa troppi danni Potete già immaginare cosa fa Questa mi incuriosisce Se ha degli effetti Questa sembra molto forte Was not me Non mi sembra interessante Knife Vorrei prendere Posso scegliere una io? Sì Prendi 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 Io voglio questa Cosa hai preso La Meteor Sword Il Meteor di Meteora Quando ho detto Questa fa troppi danni Quale intendevo? Io pensavo Intendessi la Ender Sword Perché era anche bella Esteticamente Ci stava Vabbè prova sto Meteor Va fai tasto destro Su Sulo zombie Ti prego non stare vicino alle chest Hai già fatto una volta Questo errore Ma no Non fa nulla Prova a sinistro Ah però Eh allora Mi sa che per Meteora Si intende che è fatto Con il materiale Della Meteora E fa un danno incredibile Penso proprio di sì Perché è fortissima Allora io voglio provare Invece Vai Voglio provare invece La Slime Sword Ok Ma Ma No Eh boh Non è che rimbalzo No Tasto destro No no Nulla 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 Pensavo facesse qualcosa Ma no Eh molto magari sono anche A livello estate Guarda questa Eh bella questa Steph Questa picchia eh Pronta Doppia spada Guarda Vai Ma povero vabbè Ma mi sa meno danno della tua Sì 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 Pensavo fosse più forte eh Quanto fa di attack damage la tua? Eh fai vedere un attimino 21 Ah questa fa 10 È molto più forte quella Poi abbiamo questa Che è la sciabola da pirata Oh questa è bella Sono bella Ti si addice almeno Lo so Lo so lo so lo so E poi Abbiamo Un coltello Lo so Capisci? Certo Allora mi ha messo Non un effetto Tipo 15 effetti Di maledizioni Di tutto e di più Steph Guardate È tutto buio No Ferre devi venire immediatamente Che gli è successo? Devi venire immediatamente Sto correndo Sto tornando Aspetta ti porto io No no ci sono Ci sono Ti porto io Ho sbagliato Ecco qua perché sbaglia sempre Per quello ti ho detto Ci sono Steph Sto arrivando Non ce n'è bisogno Eccomi qua Allora Ma continua a volare Vedi? Capisci? Continua a volare Perché mi mette pure la Buff Non mi ricordo l'effetto Come si chiama Quello che ti fa fluttuare E quindi inizia a prendere Dando da veleno Mentre flutua E adesso cade Ed è morto Che tristezza È l'arma più cattiva del mondo No è cattivissima Guarda eh Pronta Sei attivissimo Mi volevo rimettere Lui in questo momento Non vede Prende danni nel tempo da veleno Continua a fluttuare verso l'alto Finirà tra 30 secondi Tutti gli effetti Cade e muore È una tortura cinese Sì No questa è davvero terribile Steph È legale questa Vero? Eh sì 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 Dovremmo bandirla Da qualunque posto Da qualunque cosa Troppo forte Troppo Mi sembra davvero 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 eccessiva Posso provare la dragon killer Steph? Dov'è? La prima La prima? Perché? Vabbè Prendila Che succede? Eh prendi 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 Mi sistemo le altre Ok ci sono Ok ci sei? Sì Allora Chi ti do da affrontare? Chi dovrei fare adesso? Allora Dragon killer Voglio un drago Steph Non ce l'abbiamo il drago Pronta? Sì Dai un colpo in fretta Che altrimenti sono guai Vai Ok Capisci Perché non volevo Fartela vedere Cioè Allora Voglio leggere Aspetta Voglio leggere L'attack damage 1600 Già Se l'altra ne faceva 21 E sembrava fortissima Questa è 1600 Ti sfido Vai Tu tieni quella spada Io tengo il coltello illegale Ok Chi dà il primo colpo vince Ok vai Ok Ok No Io però muoio subito Non sono come il pigman È uno schifo Steph Muoio subito Ma so morto anche io Quindi è pareggio Credo che la sfida Andrebbe così 100 volte su 100 Perché unità testa Ce lo diamo Certo E noi moriamo entrambi Sì quelle due spade Vanno bandite dal gioco Sono un po' No la mia era bella È la dragon kill E io me la tengo No non puoi Sì 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 Intanto la prendo io adesso Vediamo poi cosa fai Dragon kill Dov'è? 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 Eccola No Dov'è il coltellino? Dov'è il coltellino? È questo? Sì No dai Ti volevo mettere i razzi E tu sei stato cattivo Pensa fai i vestiti Riappassare Volevo provare a far ti volare Col razzo Scusa Ragazzi Lasciateci un like La nostra prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao